Cari amici di calciomercato.com, innanzitutto una premessa, è opportuno anche per parlare di Mourinho non confondere il calcio con il fantacalcio, il gioco con un videogioco e il monte ingaggi col valore tecnico e di mercato di una squadra. Fatta questa premessa, è innegabile che Mourinho si trovi nel momento più basso della sua carriera, come anche la Roma si trova nel momento più basso della sua classifica da chissà quanti anni a questa parte. Eppure, se ripensate alla partita di ieri, alla sconfitta rovinosa contro il Genoa, troverete per esempio anche nelle statistiche il famoso possesso palla, i tiri in porta, i corner, i passaggi, tutti i numeri che non rispecchiano poi quello che è successo in campo e com'è finita la partita, ovvero il 4-1 finale. Anzi, leggendo, lo trovate su qualsiasi sito, compreso calciomercato.com, quelle statistiche di come è possibile che questa partita sia finita 4-1. È possibile, è possibile perché ci sono altri requisiti per giudicare il calcio e sono i requisiti che io chiamo fondamentali nel calcio, nel pallone, cioè la tecnica, l'impegno o la grinta, chiamatelo come vi pare, e lo spogliatoio. Riguardo dal punto di vista tecnico, Mourinho, secondo me, sta trovando delle giustificazioni che sono molto particolari, perché rimpiangere i Bagnez tutte le volte mi sembra un po' esagerato. E dire che, però, che la difesa con Smalling e i Bagnez era un'altra difesa, sì, questo non è esagerato, solo che significa restituire Mancini a un ruolo che secondo me è più un consono nella sua capacità tecnica e anche la sua leadership di spogliatoio, cioè non può essere il protagonista Mancini, né in campo né fuori dal campo. Secondo me gli mancano le skills, gli mancano le skills, facciamo così, diciamo in inglese così si offende nessuno. E anche Pellegrini, a proposito di giustificazioni, non è il giocatore, il centrocampista che prima veniva applaudito da tutti. Semmai Matic manca a questa Roma, ma chissà perché nessuno lo dice. Matic sì che era un giocatore, però, e qui mi collego al discorso del calcio e del fantacalcio e del gioco e del videogioco, Matic al fantacalcio prendeva sempre 6, non faceva un gol e non faceva un assist. Quindi, basico. Nel videogame era lento, ma poi Matic non era questo. Matic in campo lo vedevi, lo sentivi, in spogliatoio anche. Questo è un grande centrocampista di livello di valore internazionale e quest'anno non c'è. Poi ci sono altri problemi, tipo Dybala, che si allena quando può e quando vuole, tipo Lukaku, che non può essere one man show, ha fatto tre partite, tre gol. Poi gli capita anche la serata, che invece c'è il fuorigioco di pochi centimetri. Ecco, in questa situazione, però, qual è l'aspetto più importante da considerare? Quando c'è una situazione delicata, il presidente deve andare a verificare com'è il rapporto con lo spogliatoio. Perché nella sconfitta di ieri i numeri non la giustificano, non la spiegano. Il valore tecnico, tutto sommato, nemmeno. E allora che cosa è che bisogna andare a guardare? La grinta, l'impegno, se la squadra segue l'allenatore. Una volta fatta questa verifica, se tutta la squadra è con Murigno, Murigno deve restare fino alla fine. Se la squadra è invece screpolata o divisa, la valutazione e la decisione è inevitabile per l'esonero. Dice, ma costa tanto? Sì, ma comunque la responsabilità e Friedman se la devono prendere. La verifica è tecnica, di grinta, di impegno e di spogliatoio. Lasciate perdere tutto il resto.